Oggi sono da solo, purtroppo me la sono fatta di influenza e se l'è fatta anche barba, cioè il mio scopo di attaccargliela è andato a buon fine. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, parliamo dell'inquinamento indoor, cioè l'inquinamento tra le mura di casa, che può essere eliminato tipicamente scambiando l'aria. Si prende l'aria esterna, più di che di ossigeno la si mette in casa, si prende aria viziata dalla casa, la si spegne.